Isolare al più presto i comuni della piana di Gioia Tauro prima che sia troppo tardi è la proposta del consigliere regionale Marcello Anastasi di Oresto in Calabria alla governatrice Iole Santelli. Questa richiesta, spiega, nasce dalle notizie delle ultime ore che segnalano casi di soggetti positivi al coronavirus tanto a Gioia Tauro quanto a Rosarno. È necessario prevenire, contenere il più possibile e, fino a quando sia ancora in tempo, l'alto rischio del diffondersi dell'epidemia. Inoltre, nella piana di Gioia Tauro si dispongono con urgenza una tendopoli militare e un ospedale da campo operativo per affronteggiare l'emergenza a supporto dell'ospedale di Polistena al momento l'unico funzionante ma non in grado di rispondere totalmente ai bisogni del territorio e di Gioia Tauro sottodimensionato ormai da tempo, parzialmente operativo di cui gli ambienti necessitano di urgenti interventi di ripristino e di sanificazione. Ciò comporterebbe, continua il consigliere regionale di Orresto in Calabria la possibilità di creare un centro operativo Covid per gestire le attività di contrasto nel territorio della piana di Gioia Tauro migliorare la risposta alle richieste di ogni genere e dalla protezione civile, dalle associazioni di volontariato dalla gente comune e soprattutto dai rispettivi sindaci. Quest'ultimi costretti ad amministrare con poche risorse i popolosi e numerosi comuni in questo tragico momento rappresentano una situazione di particolare affanno non disponendo di sufficienti forze per garantire i vari servizi come quello per esempio della vigilanza urbana. Se vogliamo farcela, conclude Anastasi, è necessario far rispettare con maggior rigore il comportamento personale previsto per ogni cittadino a garanzia della tutela della salute pubblica.